Atomic Roger? Petty e Roger stanno sotto un albero e si facciano! Dylan! Oggi è il giorno di San Valentino, lo sai? Mi stavo giusto chiedendo se per caso hai qualcosa per me. Il giorno di San Valentino? Oh, l'ho dimenticato. Torno subito. Mi aspetto che mi porti qualcosa di speciale. Qualcosa che sia veramente degno di mua. Tipo cosa? Un serpente? Dodger, noi due dobbiamo parlare. Beh, mai visto due gemelli in vita tua? Sono davvero furioso con te, Dodger. Ho saputo le ultime novità. Mi stai mettendo in un bel pasticcio. Ah, non ti sto mettendo in un pasticcio. Sto riscattando l'onore della famiglia. I guardiani galattici ti hanno respinto e devono pagarla. Rifiutare uno e rifiutare entrambi. Perché coinvolgere Atomic Betty? Perché a te piace, giusto? Ma non è vero! Sei il solito bugiardo. Sono un criminale, è normale che sia bugiardo. Stai facendo tutto questo soltanto perché i tuoi capelli sono veri. Ad ogni modo, non ho tempo per discutere con te. Sono qui per comprare l'animale più pericoloso di tutte le galassie. Un bestio cucala zustiano e per 15 megatonnellate d'oro e un carico di diamanti grini schiani doveva per forza essere il più temibile. Non mi fido affatto di te. Tu sei cattivo, Dodger. Beh, sono un criminale. Devo essere cattivo. Ho progettato di liberare il bestio al quartier generale galattico. Così impareranno a respingerci. A respingerti.